Il Gal Casacastra ha organizzato un incontro importante per l'agricoltura organica e rigenerativa nel Cilento. Non solo il Gal Casacastra ma anche il Parco Nazionale del Cilento, perché riteniamo che sia fortemente caratterizzante per un territorio che è patrimonio dell'umanità aprire l'idea ad un'agricoltura che sia compatibile e che conservi l'ambiente. Qual è la situazione dell'agricoltura e dei suoli italiani? Un paese che non conserva il suo suolo è condannato a essere miserabile e arruigato. E' il cammino dell'Italia, non conserva il suo suolo. Orribile, disastro il suolo d'Italia. Una situazione orribile? Sì, dice che la situazione dell'agricoltura e dei suoli italiani è disastrosa perché non si fa una politica di conservazione dei suoli a causa dell'erosione, delle frane, della situazione che noi conosciamo benissimo. E un paese che non cura questi aspetti è condannato al disastro, purtroppo. Qual è allora la via per risanare? Capacitazione, attualizzazione, il compromesso dell'Estao con gli campesinos. La formazione e soprattutto un impegno importante dello Stato con i contadini che lavorano sul territorio.